Quella famosissima frase che io cito, e cioè bisogna dimostrare responsabilità e amore per la vita della dottoressa Lorena Quaranta, ma questa sta alla base dei percorsi non solo di educazione civica, ma sta alla base proprio del valore umano, del valore umano da un lato. E ti richiamo alla tua responsabilità, la tua responsabilità, che ne so, mettiamoci, tu sei un formatore digitale, la tua responsabilità si ferma esclusivamente nel parlare per i ragazzi in un certo modo, oppure vai a ricercare e dai delle strategie, degli input, è questo uno. Che ne so, sei un docente? Sei un docente? E allora devi partire dall'interesse del ragazzo, perché qualcuno mi diceva per esempio l'altro giorno, in merito al progetto Io Valgo, lei come fa a portare avanti un programma parlando per esempio di questa tematica? E glielo dico subito. La tematica è trasversale a tutto, io posso fare analisi grammaticale e logica anche in una semplice frasetta. Nulla mi vieta, nulla mi vieta. Se devo realizzare un prodotto digitale, perché magari devo realizzare, faccio, non so, sono il professore di tecnologia alle medie e via discorrendo, ma realizzerò un percorso per esempio dove il prodotto possa essere fruibile in modo bidirezionale. Vale a dire da una parte svolgo quindi i requisiti e raggiungo gli obiettivi di quella programmazione, dall'altro deve avere un contenuto fruibile, perché adesso i nostri ragazzi sono consumatori dell'era del digitale in modo passivo. Ce ne sono alcuni però che il cervello, insomma, ma perché questo? Perché alla base hanno avuto altri stimoli, per cui ti trovi il ragazzo giovane che ti fa lo youtuber, si è appassionato di un argomento e ha creato qualcosa. Quindi ritorniamo sempre lì, ritorniamo sempre lì.